Il nuovo corso del Taranto targato Francesco Cozza in campionato parte con il piede giusto. Allo Iacovone i Rossoblu vincono per 1-0 contro la Versa Normanna mettendo al sicuro i primi tre punti della stagione. Il primo squilo del match arriva con un colpo di testa di Corso ma Maiellaro è bravo a opporsi dopo appena 4 minuti. Al ventesimo Pera serve Alexic ma la conclusione dell'ex Francavilla Insigni termina alta sopra la traversa. La squadra di Cozza è il predominio del possesso ma gli ospiti si rendono pericolosi. Un tiro cross di Giordano viene deviato sul palo da Spataro. Al venticinquesimo il Taranto acquisisce la superiorità numerica. Manzi già ammonito prende il secondo giallo per un fallo su un avversario involato verso l'area di rigore. Poco prima della mezz'ora i Rossoblu, forti anche dell'uomo in più, sfiorano il vantaggio. Alexic è pericoloso in due occasioni ma Maiellaro è superlativo. Quando il primo tempo sembra scivolati via a reti bianche il Taranto passa in vantaggio. Nel secondo minuto di recupero della prima frazione Crucitti sblocca la partita con un bolide dall'interno dell'area di rigore. Nella ripresa la Versa nonostante l'inferiorità numerica non molla e continua a cercare il pari. Pari che viene annullato al quindicesimo per un fallo di Panico su Spataro. Pochi minuti dopo i campani perdono anche Moretta, espulso per un fallo da dietro sul neo entrato Ancora e rimangono così in nove. Negli ultimi 15 minuti la squadra di Cozza sfiora il raddoppio ma non riesce a chiudere il match. Al trentatresimo Scoppetta da fuori calcia di poco largo. Un minuto dopo Pera si fa ipnotizzare da Maiellaro. Dopo 5 minuti di recupero il rosso-blu portano a casa la prima vittoria ufficiale con Cozza in panchina. La Versa recrimina ma il Taranto esce tra gli applausi dello Iacovone.